Bella a tutti ragazzi, qui il vostro Gianmi94 e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Ragazzi, da poco, da poco, è finito un aggiornamento dove ha messo questo qua, mondo di Mass Effect, ragazzi Io non so assolutamente di che cosa si tratta, so qual è il gioco, so che cos'è Mass Effect, che è un bel gioco Poi, se volete ragazzi, se vi piace come gioco ve lo farò vedere Comunque ragazzi, vediamo subito questa mod, diciamo, di Mass Effect Sopravvivenza, carichiamo Carica, ecco qua Ragazzi, ve lo giuro, io fino adesso non l'ho proprio visto com'è Minecraft Mass Effect Edition Vediamo, vediamo, i ragni non attaccano durante il gioco, a meno che non vanno Vabbè, questi sono i soliti messaggi di... I soliti messaggi che manda il gioco Comunque ragazzi, vi ringrazio ancora per tutto il supporto E grazie di cuore a tutti quanti Solo questo vi volevo dire Ma che cazzo di ficato è questa? Che cos'è? No, 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 raga, è la casa No, raga, è la casa Madonna, che cos'è? Che cos'è? No, 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 raga, io voglio vedere subito No, questa è la Workback No, 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 ragazzi Ragazzi, assi di legno di quercia No, ragazzi Guarda, che variato Che cos'è? Tosatrice Spada in legno Spada in pietra Spada di ferro Spada di diamante No, che cacchio di variata L'arco No, io voglio vedere l'arco, raga Scusatemi, ma io voglio vedere l'arco Comunque, vabbè Usciamo Una Workbench Vediamo No, raga, ma Porca trota Madonna, ma che è che la figata laggiù Non ci... No, no, raga Raga, è epico, vi prego Vi prego, è qualcosa di epico È qualcosa di epico Oh mio Dio No, è stupendo, raga È stupendo È stupendo, è stupendo Vedete com'è il personaggio? Vabbè, questo è il mio personaggio Come sempre Che cos'è? Che tengo qua? Mappa Voglio vedere la mappa Guardate che variata, raga Che variata assurda Lana bianca Cactus Biscotto Piccozza e legno No, no Che cos'è giù? No, raga Dopo dopo andate a vedere quello Perché è epico Quindi Che cos'è qua? Che cos'è sta cosa, raga? Che cos'è questa strana costruzione? Che cos'è? Niente Ok Proviamo a scavare un po' Che cosa abbiamo preso? Pietra del limite Madonna, raga Che variata Madonna Che variata Guardate Non ci credo No, raga Non ci credo Non ci credo È bellissimo È bellissimo Ecco Io mi stracello le ginocchia Ma comunque È bellissimo Guardate i binari Che variata assurda Che variata assurda Guardate È troppo È troppo bello È troppo bello È troppo bello, raga Guardate È troppo divertente Andiamo avanti Voglio vedere Guardate sopra Voglio andare Voglio andare Sopra No, io adesso voglio vedere Tipo i mostri Come sono Che variata, raga Che variata Che variata Intanto io Distruggi Ecco No, raga Voglio entrare Voglio entrare Voglio entrare qua dentro, raga Subito Guardate Mamma mia, raga Che bello Che bello, raga Che bella cosa Che hanno realizzato È proprio epica Io come faccio a salire? Voglio salire Come salgo? Mmm Vediamo Come posso salire? Mi sa che di qua Non si può salire No Quindi dobbiamo entrare Dall'altra parte Comunque ragazzi È veramente stupendo Stupendo Che lavoro Che c'è dietro, raga Che lavoro Ho sentito qualcosa Di che non mi piace Guardate giù Che cos'è? Che cos'è? Ho sentito un rumore, raga Ho sentito un rumore Si sentono robe E vabbè Io però voglio scendere Io voglio scendere Vivere con... Cazzo che botta Guardate, raga Che bello Che bello È troppo epico, raga È troppo epico Io però Io voglio entrare Come faccio ad entrare? Io voglio Entrare Guardate ragazzi Mi pare un'arena Che figata Che figata assurda Madonna, raga Fatemi sapere Se vi piace Perché a me, guardate Mi piace un sacco Un sacco Mi piace Comunque Se vi interessa Anche a voi Ragazzi Vedo se riesco A prendere Se riesco a comprarmela Come mappa Che questa è solo Una mappa prova E infatti Non mi fa salvare Gli oggetti Comunque ragazzi Fatemi sapere Se vi piace E io semmai ci farò Una Semmai lo comprerò Questa mappa E ci faremo Una serie insieme Vedremo tutto Andiamo ad esplorare Un poco Ecco qua Andiamo intanto Risaliamo Comunque ragazzi È veramente Qualcosa di epico Voi non c'è Secondo me Non potete manco Immaginare Quanto lavoro Ci sta dietro Cioè È È incredibile È incredibile Intanto ci facciamo Delle scalette Risaliamo Stiamo a sette minuti Ragazzi Però comunque È bellissimo Però comunque Ok ragazzi Io mi farei qualche problema Guardate il puntatore Che pariata Che pariata Assurda Piccozza in legno Da Più che una piccozza in legno Mi pare una piccozza in Meccanica Voglio andare Voglio andare di là 1 2 3 4 5 6 Cactus No Non posso mettere Cactus Ok Mi sa che siamo Arrivati Eccoci qua Ragazzi Eccoci Qua Mi deve fare Tanto una piramide Voglio salire Voglio salire Saliamo Saliamo Fino in cima Sì Che pariata Assurda Però voglio Porca miseria Madonna Stavo cadendo Di nuovo Comunque ragazzi Deve essere Veramente Veramente Bello Cioè Io Non riesco Manco a immaginare Quanto tempo C'è voluto Per fare Tutto questo Guardate E' qualcosa Di epico E' bellissimo E' bellissimo Ragazzi E' bellissimo Un'entrata Buonasera Che cosa Che cos'è Lana Credo Che pariata Ragazzi Che pariata Che pariata Assurda Questa è una workbench Letto Letto Vediamo un po' Scala Pioli Ok Porta in legno Quanto è brutta la porta però Potevano farla meglio Però Guardate Ragazzi Che pariata Che cos'è Spacchiamo tutto Spacchiamo tutto Facciamo i vandali Porta in ferro Perché mettono le porte in ferro Io vorrei sapere Comunque ragazzi Questo è Veramente ragazzi E' grandioso Come cosa Mi raccomando Fatevi sapere Se vi è piaciuto Anche voi Questo piccolissimo Video dimostrativo Ecco Chiamamolo così Se vi piace Ragazzi Io Se mai Ci farò Qualche video Oppure Guardate Che cos'è Oddio no Guardate Ragazzi Era uno scheletro Era uno scheletro Rigenerazione Ragazzi Guarda Ma ha distrutto Lo scheletro Vabbè ragazzi Questo è Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi E commentate E noi ci rivediamo In un prossimo video Di minecraft Guardate Lapo dopo C'è la foresta normale Comunque ragazzi Spero che questo Piccolissimo video Vi sia piaciuto E noi ci rivediamo In un prossimo video Bella ragazzi Ciao Ciao